Un anno e quattro mesi è la perdita della patria potestà. È stato condannato dal Tribunale di Verbania il cinquantenne dell'Est Europa che, nel 2021, aprì la cassaforte dell'appartamento dell'ex moglie, prelevando e trattenendo i documenti di lei prima di andarsene non autorizzato con la figlia di quattro anni di cui lei aveva l'affidamento. Sottrazione di minore e furto ha gravato i reati contestati all'uomo in quel blitz, susseguente a una separazione di... Se vuoi vedere tutto il video, abbonati alla nuova televisione online. È live 24 ore su 24.